Oggi giocheremo a nascondino in giro per tutta la città! Timon guiderà e noi ci nasconderemo! Il vincitore riceverà mille euro, ragazzi! Bene, cosa stiamo aspettando? Cominciamo! Sì, Timon, iniziamo! Ottimo, ragazzi, inizio io! Andiamo! Andiamo! Fate attenzione, sciocchi! Comunque, inizia a contare! Uno, due, tre... Ragazzi, sapevo che oggi avremmo giocato a nascondino, Quindi mi sono preparato molto bene Guardate fino alla fine, io vado! Ragazzi, onde è a folle? Ragazzi, qui c'è un bidone della spasatura Metto via la spasatura e mi nasconderò in questo bidone Andiamo! E ora chiudiamo e ci vediamo! Fantastico, vincerò questa sfida! Ragazzi, mi nascondo qui, dove c'è l'altalena? Dove posso nascondermi? Oh, Maria, che ci fai qua? Che ci fai qui? Vuole nascondermi qui! Mi nasconderò io qui, sono venuto qui per primo! Sei pazzo? Sei ben arrivato, io ero già qui! No, Maria, questa non era per i bambini e io mi sento un bambino, Quindi mi nascondo qui, ciao ciao! Ciao, piccolino, mi nascondo all'altro posto! Ragazzi, guardate cosa sto per fare! Che figata! No, ragazzi, qualcosa è stato storto, vado a nascondermi da qualche altra parte! 41, 42, 43, 44... Ragazzi, devo trovare un posto dove nascondermi! Ragazzi, penso di averlo trovato! Ragazzi, io mi nascondo dietro a questo muro e nessuno mi ritroverà qui! Spero di vincere 1000 euro e di comprare molti cosmetici e molti vestiti! Ragazzi, ragazzi, guardate che sorpresa ho in serbo! È una parrucca, è un grembiule, da donna delle pulizie! Ragazzi, ecco una scopa e una paletta! Sono pronto e vado a nascondermi! Dove posso nascondermi? Dove posso nascondermi? Oh, ragazzi, ho trovato un posto fantastico! Andiamo e nascondiamoci! E mi nascondo! Così vincerò di sicuro! Ciao, Dimon! 98, 99 e 100, vado! Li troverò tutti, ragazzi! Dimostrerò a tutti che sono il miglior giocatore nascondino! Amici, mentre cerco i ragazzi ho bisogno di energia! Quindi ho portato con me una banana! È davvero buona! Ma ora la mangerò e poi vado a cercare tutti! Mmm! Mmm! Sento arrivare, Dimon, ragazzi! Spero che non mi trovi! Ora che ho mangiato la banana, devo buttarla nella spazzatura! Ma dov'è, amici? Oh, ragazzi, non ci posso credere! Sto cercando il gestito e mi troverò! Oh, amici, dove devo cercare, ragazzi? Si sono nascosti bene questi ragazzi! Va bene, cosa posso fare ora? Li cercherò! Oh, credo che non sia stato da buona te! Andiamo ad nasconderci da qualche altra parte! Oh, che schifo! Ragazzi, se volete giocare ad nascondito con noi, iscrivetevi! E potreste essere fortunato! Ragazzi miei, fermi miei, vi troverò tutti, tutti! Ma non c'è nessuno qui? Dove potrebbero essere, amici? E questa città è così grande! Devo trovarli tutti! Oh, ragazzi, guardate che bel panorama! Amici, questa città ha le sue piscine, il suo parco acquatico, i suoi stadi e ha tutto! Assolutamente! È la più bella città che abbia mai visto in vita mia, ragazzi! Siete d'accordo? Scrivetelo nei commenti! Va bene, vado a cercarli! Ragazzi, andiamo a cercare nel giardino segreto! Forse qualcuno si nasconde lì! Li troverò tutti! Vediamo! Vediamo cosa c'è! Vediamo cosa troveremo! Lì non c'è niente! E lì non c'è niente! Oh, oh! Cosa sento? Sento qualcuno che russa! Credo che venga da laggiù! Maria, vaiati! Simone, sì, mi chiedo l'ultima che hai trovato e che io ho vinto il gioco! No, tu sei la prima perdente! No, bene, non mi interessa! Si traduce dei perdenzi, vai, ciao! Chi è un perdente? Io sono un vincitore, amici! Ragazzi, non è una bella cosa da dire, ma visto che abbiamo trovato Maria dovremmo festeggiare! Giochiamo a calcio! Forza, forza, forza! Ragazzi, non ha funzionato! Ora facciamo un gol! Ragazzi, probabilmente il calcio non fa per me! Preferisco giocare a scacchi! Madame, 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 madame! Forse ha visto qualcuno dei ragazzi qui? Qualcuno? Lì, lì, lì! Ah, le ha visti andare di là? Ok, grazie mille! Le sue scarpe sono fantastiche! Ragazzi, forse ho capito! Mi tolgo questo e vado! Dove sono? Ragazzi, quelle scarpe mi ricordano qualcosa! Sono le scarpe a ginnastica di Raffario! Non ditemi che era lui! Non posso credere che mi abbia fatto uno scherzo del genere! Oh, no, 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 no! La parrucca! Non ci posso credere! È stato davvero Raffario! Mi ha fatto uno scherzo! Come ho fatto a sbagliare! Sono un ragazzo intelligente! Ragazzi, vedo Odisseo che viene da questa parte! Guardate ora come non lo spavento! Oh, non posso ascondermi! Non posso ascondermi, amici! Ma sei pazzo? Perché mi hai spaventato così? Forse Dimon già l'ha sentita! Ho avuto paura, eh, ragazzo! No, sicuramente non ci ha sentiti! È un po' scemo! Oh, ho sentito qualcosa da laggiù! Ho preso! Oh, io sento Dimon! Ah, sta arrivando qui! Odisseo, aspetta! Dove sta andando? Ti ho trovato, Stas! Ti ho trovato! Oh, no, amico mio! Non è colpa mia! È colpa di Odisseo! È lui che ha spaventato un grado forte! Ah, quindi anche Odisseo è qui da qualche parte! Vado a cercarlo! Grazie, Stas! Ragazzi, è stata una pessima idea spaventarlo! Ora, ragazzi, ho perso per il compagno di SEO! È colpa di Odisseo, non mia! Perché bisogna spaventarlo, amici? Ragazzi, devo trovare un buon posto! Perché Dimon probabilmente ha capito che non era la detta delle polizie! Ora mi nasconderò qui, ragazzi! Che ve ne pare? Io penso che vada bene! Io prima devo nascondermi, però! Mi farò una scivolata, ragazzi! Ragazzi, mi sono un po' bloccato! Ora non so cosa fare! Raffario, ma che ci fai qui? Non lo vedi? Sono bloccato! Odisseo, dammi una mano! Va bene, Raffario, dai! È una truffa, ragazzi! Sappiate che è una grande truffa! Raffario, questa è casa mia! Qui io mi nascondo! Questo è il mio parco giochi! Perché? Sono arrivato prima io, non tu! Fuori da qui! Forza! No, mi nasconderò qui! Raffario, sei già giudato nonno! Non riuscirai a prendermi! Ora vedrai, Odisseo! Cosa, cosa? Raffario, sei un truffatore! Questo è il mio, basta! No, è mio! Sono arrivato prima io! E allora? È un parco giochi! È per bambini! Non per te, nonno! Sono io, nonno! Questo non è per me? Mi piace molto questo posto e questa altalena! Tanto per capirci! Mi interessa, Raffario! Dove vai? Io mi nascondo qui! Vai via, vai via! Vattene da qui! No, io mi nascondo qui! Qualcuno sta litigandoli! Vado a dividerli! Questo è il mio posto! È mio! Non litigate! Non litigate! Oh, Raffario, Odisseo, vi ho trovati! Lasciami! No, no! Hai trovato prima Raffario! È colpa sua! È colpa sua! È una truffa! Era il mio posto! E avrei dovuto vincere questa sfida, ragazzi! Oh, vi ho trovati! Chi di voi ha vinto i soldi? Io, esatto! Ho vinto io! Ho vinto io! Certo! Io sono l'ultimo! Ragazzi, non so chi abbia vinto! Che ne pensate? Raffario o Odisseo? Scrivetelo nei commenti! Ragazzi, se vi piace questo video, mettete mi piace! E iscrivetevi! Prevete la coppatella per non perdere nessun video! Ci vediamo nel prossimo video!